Buongiorno ragazzi del 9.42.30 novembre 2022 è finito anche novembre ragazzi ma è finito in bellezza allora prima di andare a parlare del match at betting così rispondo al ragazzo che mi ha fatto la domanda sul gruppo telegram vi vado ad aggiornare sul fatto che sì 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 siamo riusciti a chiudere il cerchio di Apple Fitness tutti i giorni per questo mese quindi ho fatto il perfect month e sono contentissimo di questa cosa qua aggiornamento sullo stato fisico perché anche quello secondo me è molto interessante perché tu dici vabbè cosa vuoi che cambi alla fine si tratta di fare un limite di 220 calorie adesso è una passeggiata di circa 20 minuti 25 minuti quindi niente di infattibile per l'aggancio porto mia figlia all'agilo vado a farmi una camminata torno a casa tutto qua attorno e poi sono pronto scattante quindi non è per niente impattante sulle mie tempistiche no comunque vi dichiaro che il peso è rimasto circa quello di un mese fa forse un po sono un po ingrassato sono a 79 i due ma fisicamente mi sento molto piaciuto quindi vi consiglio tantissimo di fare questa cosa qua in generale di camminare quotidianamente perché spacca spacca i culi vi dico non so se ve l'ho mai detto quando eri in Canada che camminavamo tantissimo perché avevamo la casa in un posto e la stazione del C train che la metropolitana era a mezz'ora a piedi quindi facevamo mezz'ora a piedi scendevamo alla fermata giusta e altre 20 minuti e mezz'ora per arrivare al lavoro quindi in pratica camminavamo due ore al giorno e lì ero arrivato in sei mesi ero tornato a casa in Italia che pesavo 69 kg cioè 10 kg meno di adesso e quindi è stato veramente assurdo ma senza fare niente di particolare perché mangiavamo come gli squali e in più si correva tantissimo quindi era solo fisico quindi è stato proprio bello però forse un po' troppo appattito ma insomma bene bene così sono contentissimo fatemi sapere su gruppo Telegram se fate anche voi questa cosa se sentite miglioramenti a proposito del gruppo Telegram che trovate in descrizione su diventeròmina.it telegram ieri gran discussione sul posso non posso e mi è molto piaciuta quindi interessante però alla fine come ogni cosa non è che si debba arrivare per forza un punto ognuno ha le sue idee però l'importante è scambiarsi e vedere come gira il mondo qual è il sentiment del mondo ma adesso andiamo all'argomento clou dell'episodio quindi parliamo del match betting perché di sicuro se vi dicono se chiedete a qualcuno come fare per guadagnare dei soldi in maniera facile e veloce tutti vi risponderanno il match betting perché o perché lo fanno o perché l'han sentito dire effettivamente è una miniera d'oro perché ti dà un sacco di capitali in maniera immediata e senza investire troppo ma ci sono diversi ma da dire ed è il motivo per il quale io non lo faccio più adesso vi vado a dire un po' il mio inizio ho iniziato conoscendo a Milano dei ragazzi che facevano match betting e loro mi hanno spinto cioè non mi hanno spinto loro a iniziare mi hanno solo raccontato la loro storia ho detto ok sai cosa inizia a fare con il match betting mi sono iscritto a NinjaBet ti lascio il link in descrizione se voglio andare a farlo perché è il sito migliore per iniziare e da là ci sono delle guide pronte e facili fatte su tutti i bonus attualmente disponibili poi c'è anche il gruppo Telegram dove ti aggiornano ogni volta che esce qualcosa il primo mese o il primo mese, i primi due mesi perché i bonus si dividono in due tipologie di benvenuto e ricorrenti quindi di benvenuto puoi farli una sola volta per persona chiaramente però sono i più corposi, quelli ricorrenti li vengono riproposti di mese in mese puoi farli quante volte vuoi però ovviamente sono minimi tipo puoi guadagnare 10, 15, 20 euro al massimo su questo tipo di bonus mentre per i credit benvenuto puoi guadagnare anche 3, 4, 500 euro per dire la differenza però puoi farli una volta sola quindi sono un po' limitati però ci sono dei problemi per quanto riguarda il match betting allora consiglio se avete bisogno di un po' di capitale o di avere del denaro, tutti questi 200-300 euro consiglio vivamente di aprire un account su Ninjabet quindi potete andare su www.minjabet.it slash Ninjabet arrivate alla pagina corretta vi registrate e avete il primo bonus è gratis tra l'altro quindi potete provare a fare a vedere come vi trovate se poi volete continuare pagate una FIMA in Siria che è molto 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 bassa e vi vengono sbloccate tutte le guide adesso se fate tutti i bonus di benvenuto un migliaio di euro ve lo portate a casa con un però e adesso andiamo a vedere tutti questi però che sto mettendo sono tutti i asterischi che sto mettendo qua e là però appunto se volete farlo fatelo perché ci sono dei bonus di benvenuto molto facili ci sono dei bonus di correnti molto facili e soprattutto a dicembre i broker calcano molto la mano quindi fatelo se siete interessati a provare a guadagnare dei soldi perché è un ottimo modo per appunto mettere a parte un piccolo gruzzoletto adesso andiamo a vedere i lati negativi di questo tipo di guadagno perché ovviamente ci sono se no li farebbero tutti e devo dire che io ci ho sbattuto la testa diverse volte perché ogni volta che smettevo non capivo bene il perché poi rivedevo questi tipi di Milano oppure sentivo parlare il match e il betting riprendevo a farlo poi sbattevo la testa poi smettevo adesso ho capito finalmente il perché e vi dico il perché non lo faccio più ma perché sono stato contento di averlo fatto e quali sono tutti i limiti allora ragazzi il problema del match e il betting è che per essere scalato quindi per fare davvero dei guadagni tu devi ogni volta che finisci tutti i bonus di benvenuto legati a un'identità devi andare a comprare altre identità è questo il problema maggiore cioè tu non diventerai mai ricco con il match e il betting facendolo solo col tuo nome o con quello di tua moglie o dei tuoi perché tu teoricamente sei portato a sbloccare tutti i bonus di benvenuto di più identità al mese quindi te ne servono che due o tre al mese cioè sono 36 identità al mese e all'anno e questa cosa qua è un problema per me perché vuol dire andare a cercare identità poi ci sono dei servizi che te le vendono cioè tu vai in giro chiedi dei dati e ti vengono forniti non so come sia strutturata questa cosa qua però questo è il limite più grande nel quale mi sono imbattuto per quanto riguarda il match e betting cioè non puoi arricchirti se non hai un po' di faccia come il culo diciamo cioè se non inizi a usare tutti i dati di persone che ti sono attorno a te per fare dei guadagni attorno a te e anche no cioè comprare identità di sconosciuti poi altro problema io ho provato a farlo con mia moglie perché vabbè se cosa lo faccio io lo faccio anche mia moglie che ritirano soldi di due o trecento euro facili i siti di scommesse controllano queste cose qua cioè se tu accedi con lo stesso IP e fai delle transazioni che sono quasi circa sospette e di due identità diverse ti bloccano un conto subito in tempo zero a me infatti ho aperto un conto con mia moglie e me l'ha bloccato ho aperto un altro e me l'ha bloccato e il terzo non mi hanno dato il bonus e mi hanno dato tutti a cagare chiaramente bisogna cambiare l'IP io usavo tra l'altro degli IP diversi ma si vede che ho fatto qualche stronzata e mi hanno trovato quindi bisogna trovare IP diversi per ogni utente cercare di non fare operazioni troppo sospette e non troppo veloci quindi non è che i siti sono stupidi le piattaforme di scommesse sono stupide e lasciano queste cose qua farle tranquillamente hanno dei metodi che stanno migliorando per evitarle quindi anche questa cosa qua bisogna è un lavoro cioè ecco questo è il punto al quale volevo arrivare è un fottutissimo lavoro cioè tu devi metterla otto ore e guardare fare brigare cercare scommettere non è che è un lavoro di dieci minuti come pensavo di fare io cerco la scommessa clic 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 e via andare no cioè puoi farlo se la tua identità è l'unica ma se l'identità gestisci più l'identità devi stare attentissimo cambiare slogare eccetera eccetera quindi sappiate che non è una cosa da fare sai un side hustle da fare così per passare la serata e per guadagnare questi duemila euro al mese no assolutamente è un lavoro che è sicuramente molto 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 remunerativo però anche molto molto impegnativo e soprattutto se sbagli a fare qualcosa rischi di perdere tutto il capitale adesso non tutto il capitale perché comunque vabbè non lo so forse sì comunque rischi di perdere dei guadagni se sbagli e soprattutto ultima cosa poi vado a poi riassumere il tutto se tu vuoi guadagnare un bonus da diciamo 500 euro devi essere disposto a mettere a ricaricare sulla piattaforma 500 euro perché funziona funziona così adesso non so non vado a spiegare i dettagli ma insomma quello che quello che guadagni è circa il doppio di quello che vai a depositare questa informazione potrebbe essere una stronzata ve la dico sulla fiducia voi verificatela perché non ho detto che sia così in ogni caso sappiate che generalizzando ecco più alto il bonus che volete fare più alto il capitale che dovete mettere dentro chiaramente quando si parla di 10-20 euro beh li metti dentro a cuore leggero quando iniziano ad essere 200-300 euro perché certi bonus devi scommetterli più e più volte inizia ad essere un po' pesante la cosa quindi non è per tutti non è scalabile non so se nel futuro verrà tolto verrà eliminato o rimarrà questa cosa non ve la posso dire comunque non fa per me di sicuro alla luce di quanto ho detto non fa per me se qualcuno ha una mente molto matematica molto che riesce a incanare tutto riesce a fare delle procedure eccetera eccetera gli piace fare queste cose qua è sicuramente adatto a lui a me non piace però appunto se volete provare sicuramente ninja bet i primi due mesi sono li pagate ma ci rientrate ampiamente soprattutto adesso che è Natale poi vi smettete a gennaio febbraio smettete chiudete tutto vi godete i 200-300 euro 400-500 euro che avete guadagnato e basta direi che per quanto riguarda il match betting ragazzi è questo il problema più grande è che non è scalabile se non andando a prendere altre identità di altre persone cioè vuol dire andare a comprare identità che è una cosa che a me non va di fare non so neanche come funzioni non mi sono informato ma la sola idea mi fa star male cerco altre metodologie di guadagno che sicuramente sono più adatte a me ecco non sto dicendo che il match betting sia il male però non è adatto a me e per guadagnare bisogna anche saper dire no a determinate cose per concentrarsi tutto su quello che su quello che vogliamo fare davvero perché dividere le energie in più attività è una cosa sbagliata soprattutto se un'attività come il match betting la vedi come un gioco così in un passatempo che fai la sera no no è assolutamente un impegno grande perché perché ci sono capitali guadagni importanti in gioco quindi questo è quanto ragazzi perdonate se ci sono delle inesattezze ma in linea di massima la riflessione è quella è corretta fatemelo sapere comunque su diventerminaputti slash telegram se che è il link al gruppo telegram lo trovate anche in descrizione se c'è qualcosa che non vi torna se c'è qualcosa di sbagliato se volete approfondire qualcosa vi ricordo appunto ninjabet potete iscrivervi tranquillamente ve lo consiglio io l'ho usato più e più volte cioè perché mi iscrivevo poi mi cancellavo poi mi riscrivevo poi mi cancellavo e alla fine non è male come piattaforma è la migliore perché è una grande community dietro le guide sono fatte bene e ne ho provati altri ma non sono all'altezza quindi potete andare su diventerminaputti slash ninjabet così a me arriva una piccola commissione anche se vi registrate ma non vi sto spingendo a fare mezzo il bet fatelo solo se vi ispira e per provare sono Giacomo migliorare in 5 anni ci sentiamo domani ciao ciao